e allora cresce e cuciassi i panini al loro cazzo stiamo in suona fa proprio un piondo platino vai senti ma Mimmo? e vai sempre che stanno con questi consegni per ammarrare pure la serrana oh a che storia viene? chiù e chiù e allora qui si sente freddo ma ti rende conto? guarda che siccome sta a mezza mano cosa? mamma mia vi restano tutti i panini a mettere a posto e via via mettere in dei burschi eh no come fai a rapida questo? se fai giocato se fai giocato fammi racca fammi racca ma lo vieni ancora di ciò si dice il saco fammi fa freddo ciò ancora so l'agenda 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 avic Dag l'agenda 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 no 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 La testa è qua. Questa è una nuova, una settimana la forza faccia il 6x. Cos'è la vita senza l'amore?